Ciao a tutti, come state? Spero che siate bene. Allora, oggi video un po' particolare, non video vlog o video strani di acquisti, ma un video dove voglio aprire tutte le uova che sono state regalate alla principessina. Io ho fatto la foto il giorno di Pasqua, cioè ieri, che c'è Mami, che abbiamo fatto ieri, con lei, con Amira in mezzo e tutte le uova attorno, perché anch'io da piccolina mi fecero una foto del genere e ho voluto replicare, ma con tante 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 uova. Allora, il primo uovo che le abbiamo preso, uno dei primi, è stato questo qui, con la coroncina, perché Amira, come vi ho detto in un video precedente, significa principessa. Allora, ovviamente, quando ho visto questo, potevo non prenderlo. Però, mamma, ti piace? Sì? Ti piace? Adesso voglio metterle. La coroncina, ovviamente, sarà grande, però ci proviamo. Amma, ci hai delle cose? Delle forbici? Dacci le forbici, così scattiamo, vero, mamma? Scattiamo? No! Ti piace? No! Guarda che mamma ti comprerà un sacco di uova. All'anno prossimo. Allora, apriamo. Di gallina. Di gallina. Le apriamo. Vediamo un po'. Questo è un uovo che non abbiamo mai preso, quindi non so come siano le... Una sorpresa. Guardate, questo è lo scettro. Sì, lo scettro. Ciao. La corona. Che mettiamo. Ammire. Oddio. Oddio, mamma. Guarda. Guarda. Ammira. Ammira, guarda. Guarda, mamma. Ammira. Guarda. Oddio. È una principessa a te. Ma tu sei una principessa, mamma. Allora, questo lo scettiamo. Mettiamo così, così. Perché tu sei una principessa. Ma ridi, mamma. E ridi. E sì, mamma. E sì. Apriamo, apriamo, apriamo. Apriamo, mamma. Patatina. Ce la faremo? Io c'è una frana ad aprire. Vediamo cosa c'è. Guardate quanto c'è. Questo è al latte. Vediamo cosa troviamo dentro. Cosa troveremo dentro? Vediamo, mamma. Allora, abbiamo trovato questo che sarebbe il braccialettino che Ammira ci giocherà. Io adesso le metterò tutti questi giochini che troverò nei vari uovi. li li metterò in una bustina anche per tenerli come ricordo e poi come la sua prima Pasqua e poi quando sarà un po' più grandina ci giocherà. Questo guardate quanto è bellino, bello, bello, bello. Quindi abbiamo sia il braccialettino che la corona. Ti piace, mamma? No. Vediamo l'uovo come è. Buono, ovviamente. L'altro uovo che avevamo preso era questo. Questo qui, ragazzi. Questo qui l'avevo preso all'Eurospinio perché mi piaceva tanto il pelucino che era una pecorella. E... Ti piace, mamma? Guarda, mamma. Ti piace? Oddio. Oddio, oddio. Adesso vediamo. Questo pure sarà un giochino che adesso lo metterò nel fasciatoio. Questo non lo metterò in bustina. Guardate che bellino che è. Una pecorella. E apriamo. Se ce la faccio. Uh! Che cos'è? Ma la caca. No, vero, serio? Che cos'è? Io non l'ho capito. Che cos'è? È qualcosa di... Anche questo. Questo qua, la dorata. Buono. Fa durandoso. Le ventose. E che ci fa delle ventose? Questo buona sola. Però tanto c'era questo. Molto probabilmente hanno messo un giochino un po' più bruttino perché hanno messo il peluccio. Poi apriamo questo di LOL e poi apriamo quelli della Tinder. E io preferisco il basso. Il basso? Il basso se l'ha regalato la zia. Adesso vediamo questo qui della LOL. Cosa c'è dentro? Tra l'altro questo qui della LOL e penso anche questo al latte perché per i bambini faranno ovviamente l'uovo al latte. Vero, mamma? Ti piace? Che cosa c'è dentro? Stickers. Stickers. Oh sì. Stickers. Ti piace, mamma? E mami? Guarda, mamma. Guarda, mamma. Guarda, mamma. Guarda, mamma. Guarda il tuo. La tua picconellina. Adesso apriamo questi stickers per vedere come sono. Vero, mamma? Ti piacciono? Sì, mi piacciono. Ah, questi stickers. Ho capito. Sono degli stickers con tutte le LOL. Va bene. Dopo li metteremo nei giochini di Venena. Vero, mamma? Ti piacciono, vero? Nella copro, ragazzi, perché porta il vestitino. Però le ho tolto le collant, quindi per farla stare un po' libera. Ma adesso passiamo a quelli della Kinder. Quindi finora abbiamo aperto tre uova. Passiamo a questo. Questo è qui, quello Kinder sorpresa con le Winx. Che c'è, mamma? Ti piace? Guarda, le Winx. Che c'è, mamma? Ti piacciono? Chi c'è? Chi c'è, mamma? Allora, apriamo. Ragazzi, io sono una frana a aprire le uova. È quello tanto rinnovato e tanto voluto, quindi... Ecco, aperto. Non so se vedete. Vediamo dentro cosa c'è. Uh, madonna, c'è una Winx bella. Allora, questa è la Winx quella con i capelli gialli, quelli biondi. Non mi ricordo. Io amavo le Winx, ma non mi ricordo... Non mi ricordo i nomi. Cioè, proprio zero. Allora, questi sarebbero i capelli. E il viso? Ah, eccolo, buonamente. Allora. Questo come si mette? Ah, eccolo. Eccola qua. Ecco la prima Winx. Questo non so come si chiama. Adesso vediamo subito. Come si chiama sta Winx? Aiutatemi. Non lo so. La Winx è quella bionda, ragazzi. Questa qui. Praticamente questa che sta qui. Ed è questa. Ti piace, mami? Guarda. Guarda, mamma. Oddio. Oddio. Ti piace, mamma? Adesso andremo con i giochini. Ovviamente Kinder. Guarda, mamma. Ti guardi, mamma. Poi. Apriamo. Uno gigante? No, apriamo questo piccolino. Sempre questo della linea delle Winx. Speriamo che non esca un'altra. Apriamo un'altra Winx. Se vogliamo un'altra Winx, mamma. Però non bionda questa volta. Oddio. Sarebbe stato così con gli occhi. Oddio, mamma. Oddio. Oddio. Guarda questo uovo. Guarda questo uovo. Mammina, guardale. Apriamo. Wow. Speriamo che non sia lì. Speriamo che non sia lì. Vai. Questa è l'altra Winx. Quella che ovviamente non ci ricordiamo il nome. che sarebbe quella con i capelli castani. Molto bene. Per fortuna, vero, mami? Così. La mettiamo nella cameretta. Guarda. Che carina. Ti piace, mamma? Che carina questa Winx. Che carina. Bello, le Winx le mettiamo nella cameretta? Eh, vive. Un altro uovo. Questi alla fine sono quelli giganti. Ne abbiamo due di Kinder giganti. E adesso apriamo. Io spero di trovare... No, no. Io spero di trovare Ariel e Cenerentola. Mamma mia. Spero così almeno... Te li metti, mamma. Te li metti in cameretta con i due giochini. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Il mega uovone. Il mega uovone. Eccolo. Guarda, mamma. È rosa. È rosa. Ciao, mamma. Ti piace? Oddio, vediamo. Vediamo cos'è. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Abbiamo trovato Ariel. Siamo state fortunate, mamma. Abbiamo trovato Ariel. Che bella, grossa. È bella, grossa, Ariel. Ti piace, mamma? Eccola! Eccola qui, Ariel. Ti piace, mamma? Eh? Ti piace, mamma? Ti piace? Allora, questo mettiamo qui così non ti cade. Ti piace? Eh, che bella. Ragazzi, la bimba non ha resistito, ovviamente, perché a una certa è andata nelle braccia del babbo. Sono rimaste due uova. Dopo le voglio, le volevo aprire insieme a lei, però ho detto no, beh, le finisco adesso il video, così almeno, se ha bisogno di me, sono pronta. E apriamo gli ultimi due, appunto, di uova. Peccato che lei non le possa aprire, ma quando rivedrà questo video, un giorno, le verrà a ridere, dirà quanto è scema mia madre. No, vabbè. Le volevo fare questo video anche per ricordo e volevo fare anche la foto, appunto, con tutte le uova, per ricordo. E i giochini, tenerli poi un giorno o in cameretta, così, oppure farci giocare direttamente lei, non lo so. Adesso vediamo. Con la coroncina e, vabbè, tipo braccialettino e il peluscino, quello lì ci puoi giocare. Adesso vediamo in quest'altro uovo. Questo, anche questo gigante. Guardate quanto sono belli questi della Kinder. Sono veramente belli. E apriamo anche questo rosa, belli, belli questi contenitorini. Speriamo che non sia Ariel, perché sennò avremo un doppione. Speriamo non sia Ariel, speriamo non sia Ariel. No, è Ariel, mannaggia. Vabbè, avrà un doppione di Ariel. Avrà un doppione di Ariel, vabbè, dopo lo monteremo. E poi, l'ultimo, che è di, ehm, dei baci. Ovviamente, non ci sarà, penso, una, questo qui, dei baci, alla cioccolata bianca. Questo, penso, che non avrà i giochini per la bimba, ma avrà un sacco di baci. Però apriamolo lo stesso. E niente, io comunque nei video, ragazzi, non vi ho fatto mai vedere la bambina, però ho deciso di iniziare a mostrarla ogni tanto. Tipo adesso l'avete vista nel video, però non tipo sempre in modo, diciamo, costante. Ogni tanto ve la farò vedere. Che tanto no, ho pensato che non ha senso non mostrarla mai, però poco. A dose, a poca, a poche quantità. Vedete questo qui, dei baci ferrucini, è bellissimo, è bianco, veramente bello. Apriamolo. E dentro ci sono, penso, i baci. Ah no! Ah, che bello! Questo io lo tornavo per ricordo perché gliel'ha fatto la zia. Guarda che bello! Praticamente, creazione artigianale, maestri orafi, con ciondo di abbracciali, nickel free, 100% produzione italiana. Bello! Questo lo teniamo come ricordo, un cuoricino, un ciondolino. E qui ci sono ovviamente i baci bianchi. Quanta cioccolata! Ho fatto un casino! Adesso, appena riesco a riprendere tra le braccia, ve la faccio vedere così chiudiamo il video e vi salutiamo. Questo è stato appunto un video per avere il ricordo delle uova, delle prime uova. E mi piaceva anche mostrarvela nel video YouTube, un po' in modo speciale, in questo modo così. Volevo fare video a Pasqua, ma è stata totalmente cotica la cosa che, cioè, registrare con i parenti e tutto non sarebbe stato tanto semplice. Quindi in questo modo, meglio, più tranquillo. E niente, la vado a prendere. Tala! Mami! Saluti tutti! Saluti, ciao! Mi ha fatto il piacere fare questo video di spacchettamento delle uova insieme a mamma, con voi. Che dici, Mami? Quando rivedrai questo video? Sì, a mamma non stavi con la gamba. La dirà, mamma non stavi bene qua a capo, come dice papà. Vero, mamma? Dici ciao a tutti! Ciao! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Vero, mamma? Ciao, ciao! Guardate se ho vestito in un po' di tulle. Ciao a tutti! Ciao, ciao! Iscrivetevi al canale! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao!